Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Fabers Allora raga, come avete detto dal titolo Oggi saremo su Slater io Ma con una piccola differenza Cioè che sarò senza webcam Perché per chi non lo sa o per chi lo sa La fotocamera interna del mio telefono si è rotta Vi volevo solo avvertire di questo Quindi nient'altro Vi lascio subito al video Ciao belli Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Fabers Allora raga, oggi come avete detto all'inizio Siamo su Slater io Quindi Faremo la modalità Per chi non lo sa Aspettate un momento che metto il nome Ovviamente Faremo la modalità Play a guest a e Perché la modalità online Raga, non si sa perché è lag Invece questa qua Dopo l'aggiornamento Non laga Laga di meno Oppure non laga proprio Attenzione Vai No, 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 no Incominciamo già malissimo Vai Prendilo No Ma Vai Tocca Sìì No, 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 no Ho capito tutto di quello che ha detto questa pubblicità Voi avete capito, vero? Sì come no Io perchè raga Questo slider io ce l'ho all'iPad E sono più abituato all'iPad Anzi ragazzi Ditemi sotto nei commenti Se riuscite a trovare un'applicazione Se Per registrare dall'iPad direttamente Così mi trovo anche meglio Oh Bella 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 No non mi rubare i punti Pezzo di merda ti rubo la mamma No Oddio che sto guappi Inglobiamolo Le Ci stiamo prendendo per il culo Si perchè ci stiamo prendendo per il culo Ci stiamo prendendo per il culo Perchè non è possibile che una mina del cazzo Mi possa fare male Oh si 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 Bello 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 Dai questa partita è fortunata Questa partita è fortunata A few moments later Dai Questa partita È fortunata una mazza Cominciamo con i primi Incazzamenti Bene Come Cosa Cosa sto facendo Ma non lo so nemmeno io che cosa sto facendo Vabbè No non ci arrivo a inglobarlo Porca Oh 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 Lelelelelele Oh Lelele Oh Un'altra partitella Tu vedi sul cazzo Quindi muori Muori Oh Cavo baby Ma chi è questo Tuama Tuana Ma Mix Bene C'è un nome di merda Bacca Becca Becca Hanno peccato Come fosse ma Avevi scritto Bacca al testino Non so come ho fatto raga Al telefono a fare 2000 punti Cioè io all'iPad avevo fatto 17000 punti Cioè c'è una bella differenza Era arrivato secondo Oh L'ho inglobato Adesso sei tutto mio Tutto mio Tutto mio Oh Bello Ole Ole Adesso Oh Popopo Bello 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 Eh Ok ingloba sii no vabbè non l'ho proprio inglobato però è andato contro di me quindi mi spiace però record pur sempre record vabbè raga per questo episodio l'ultima partita faccio poi perché questo diciamo che è un episodio di prova è proprio un esperimento per vedere se se lo volete ancora oppure cambio di ritene serie non so dipende tutto da voi raga se questo video raggiunge i 5 like continuerò slider io perché è un gioco di merda perché è un gioco di merda perché se li mettete i like vuol dire che a voi vi piace io sclero quindi porca merda 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 vabbè ultimissima partita e e poi te perché sto perdendo leggermente la testa ok 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 vai vai ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao belli grazie a tutti Grazie a tutti.